E' però qua non mi arriva il codice, non so come si fa Sto aspettando il codice ma non mi arriva Ma non mi arriva il codice Vabbè, ok, eccolo Prima ce l'abbiamo qua Un attimo solo raga Ok, sono corretti i codici Dura troppo poco Ci vuole tempo però Sì sì, lo so che ci vuole tempo per fare un mazzo E le partite durano troppo poco, lo so Però è figo, cioè mi piace proprio, mi piace come gioco E' figo perché ogni partita è sempre diversa Quindi durano poco le partite Ma come gioco ci sta secondo me Allora qua Allora adesso devo decidere tra Iron land Devo decidere tra iron led Cablo Posizione nella tua mano Nella tua mano L'ultima carta del mazzo avversario Che non è male pure questa Oppure c'è Shava Shanna Che non l'ho mai vista in vita mia Mai Aggiungi in un campo Una carta Questa qua è figa però Questa carta pure è figa Non è male Non è male questa Boh, io prenderei questa qua Iron land Dai vediamo Vediamo che roba è qua C'è sta un sacco di roba A parte le posso prendere tutte No? Quante c'è no? C'è una 7000 Qua le roba Questa è bella figa pure Ah cazzo Negozio dei gettoni E come si fa a prendere i gettoni adesso? Cioè se io volessi prendere i gettoni Come si fa? Ah non me li fa comprare i gettoni? Non me li fa comprare i gettoni? Ma tu pensa Guarda come scioppa Eh lo so Lo so Lo so Grazie mille Dare le 97 Ciao bello Grazie mille Non lo so Vabbè volevo prendere pure questo Ma questi gettoni qua Non so come si comprano Come si acquistano Allora la mia collezione è bella grossa Bella Bella forte Sto già a un bel livello Diciamo Normale Sto a livello platino Platino Quasi diamante Quasi diamante Però ecco Voglio per arrivare a 100 Ancora ce ne è stata De strada Più che altro Adesso sto iniziando A incontrare Meno Meno persone forti Quindi Cioè meno persone Diciamo Scarse Quindi Sono tutti forti Quindi è un casino Però andiamo a vedere Se trovo tipo qualche altro deck Qua dal tracker Vediamo se mi consiglia Qualche altro deck Che c'ho Con tutta la collezione Allora Come si fa per Mettere la collezione Marvel snap Vediamo un po' Come manca Sera Che non so che cazzo è Devo vedere Se ci sta Tipo qualche deck Già pronto Che c'ho Subito Pronto Che posso giocare Certo De carte Me ne mancano Proprio tante Me ne mancano Me ne mancano Un botto De carte Per esempio Questo deck Qua è figo Solo che Me ne manca Questo Ma in realtà Questo lo posso usare Levo questo E metto tipo Destroy your Other cards Cioè Ma questo Ci metto Tipo Urk Al posto Di questo Non è male Beh Ci si può mettere Pure questo No Destroy your Other cards Questa qua Non è male Ah però è un Aspetta un po' 615 Però 615 615 Questa è grossa Sai che ti dico Io questa qua Mi piace Questa mi piace Mo lo provo Mo lo provo tutto Come si fa qua Ingolla vai Ingolla ora Ci metto Al posto di quello Ci metto tipo Ci metto Urk E comunque Bello Urk Dove sta Urk 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 Eccolo 612 Costa uguale Solo che Invece che Costare Invece che avere 15 C'ha 12 Deve potenza Alla fine Potrebbe funzionare Lo stesso Come Come deck O quello Oppure ci metto Tipo Questa qua Però Mo vediamo Un attimo Come work Se funziona Se non funziona Perché non lo so È la prima volta Che lo gioco Quindi vediamo Aspetta fammi un attimo Cambiare Il deck Vai 4 Vai io Vediamo Hai knulla Non lo so Non so se usa knulla Sto deck Non so se usa knulla Non lo so Non lo so Questo ce l'ho Allora fammi vedere Come funziona Huntman Effetto continuo Allora Dopo il quarto turno Tutte le carte In possesso Del giocatore In svantaggio Vengono distrutte Urca puttana Non è E allora Questa sai dove la metto È dentro Il bucio Del culo Ma la fico La metto tipo Al centro Vediamo Danata a parte Urca poi Anche white tiger E mo vediamo Se ci sta White tiger Vediamo Che roba è Mescola Ah non lo so Comunque Questo è figo Lì Ce lo metto Vai ci sta Ci sta Porca troia Dio Santo Dio Questa che è Ah pesca una carta Tutte e due Peschiamo una carta Ok allora Secondo me Devo far cuci Per il male Metto un po' Da qua E un po' Da là Cazzo è Ah una cagata Pazzesca Praticamente Allora Le abilità La scoperta Non si attivano In questo campo Cioè praticamente Ah in questo campo Tutte però Che cazzo fa Allora praticamente Noi dobbiamo mettere Turno 5 Iron man Qua sopra Molgirin Non so che cazzo è Molgirin Vediamo che roba è Roba è Zero zero Che è questo Ora più sei power Ah Sei power Hai capito Uh E questo volevo io Questo volevo io Cazzo Però prima lo volevo Non adesso Adesso non ci faccio Quasi un cazzo Quasi Io ci butto urca qua In teoria Ma in teoria eh Però vediamo Vediamo come procede qua No no fermo E non ci ho vinto Non ci ho vinto Vai peccato Però non ci ho perso niente Perché non ho snappato Alla fine Quanto ho perso Due punti Vabbè Sti cazzi Cosmo Non so che cazzo è però Vai Forse la vinci E vabbè Mi ha messo una carta Super potente Ma io ancora sto a scoprire Carte Le varie robete Che ci stanno All'interno del gioco Perché in realtà Non lo so Sto a fare Le missioni giornaliere E via Ste cose qua Dare le 97 Grazie mille Bellissimo Della Sub Grazie mille Bello mio Grazie Della sub Gift Grazie mille Un bacio enorme Grazie Ma che bella partita Così io metto Carta Ah una madonna Come mai live Ma perché non c'ho sonno Allora durante il terzo turno Mescola La tua mano Nel mazzo E pesca tre carte Una merda Praticamente Cioè in pratica Questa qua La merda Della merda Praticamente Questa carta Non può essere Né distrutta O spostata Né può ricevere Una riduzione Della sua forza Quando la carta Viene spostata In questo campo Tiene Boh io questo Lo metto qua A sinistra A destra Spostata Ma io come faccio A spostare le carte Qua Blocca questo campo Le carte Non possono essere Più aggiunte Di mo Eh professor X È figo Cazzo Eh Eh dio santo Però Cazzo Al terzo turno Qua Me mescola Le carte Eh Questo era Figo Vai vai Mo te faccio Mo te faccio Vede io Vediamo questo In venta Questo Farai una maratona In futuro Vediamo Vediamo Come mai Dai Angeluzzo Ma perché Non c'ho sonno Più che altro Che cazzo Che cazzo Che cazzo è Angela Angela Oh Angela Che cazzo è Angela C'è una carta C'è una carta Che si chiama Angela Ragazzi Incredibile Oh io non la conosco Giuro che non la conosco Porca Questo che cazzo è L'u cane Oddio il cane Che cazzo è Non si attivano in questo campo E qua la scoperta Durante il quinto turno Che dice Ah Ovei la mossa per prima Poi c'ho il spirito santo Ragazzi Aspetta qua Bello Almeno Bello Questo Perché c'ho un campo vuoto Ma chi ti sa in gula qua In teoria Se lo metto qui Questa che fa Dopo che giochi Un'altra Ma in teoria Se questo lo metto qui Diventa super potente No Diventa potente Questo In teoria E poi Niente Praticamente No è turno 6 Ci abbiamo La giocata obbligata Davvero Urca Ci abbiamo Urca lì Teoria è vinta Perché 12 Come cazzo fa 12 Gio fa Vediamo se fa Tipo pure lui Se snappa pure lui Vai Buongiorno House FN Ciao bello Dragon Ball Legends Non so Non so cosa sia Dragon Ball Ragazzi Ragazzi Ti fai una bella Colazione Spectrum Che è Spectrum Oddio che fa Spectrum Oh Che cazzo è Oh porca Deca ragazzi Ragazzi fa un po' Schifo Sul mattiniero Perché non lo so C'è che voglia di giocare A Marvel Snap Ho detto Ma andiamo in live Vediamo un po' Com'è Guarda che Oggi Stanchi Occhio Stanotte Prendete qualche Tisana Rilassante E muoviamo Che cacquine Grazie mille Tisana Rilassante Eh Magari Cazzo Oh porca Treve Vabbè Io questa La metà Centro La metto Centro Poi metto Questa qua Per spazio Guarda Costo uno Dal mazzo Figo Iniziamo a mettere Questa roba qua Che secondo me È una roba Interessante Poi turno Quattro Devo fare Per forza Questo Hulk Turno Sei Turno Cinque Ok Ce l'abbiamo Ce l'ho Ce l'ho Questo Un campo È vinto Bisogna avere se vinco pure gli altri però Non so se riesco a vincere gli altri campi Cazzo Ma in teoria sì perché se io metto turno Allora turno 4 io faccio Questo Questo Sì ce la faccio Mette tutte e quattro le carte Questo 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 Quattro carte Quattro le carte Ah stava aspettando a me questo Sì sì In teoria ce la faccio Una pioggia dei peccati Oh porco Oh porco Eh vabbè Ah uno Ant E passo E passo Poi turno dopo Ci mettiamo dentro Questo E questo Vaffanculo E ci metto dentro Questo qua Comunque noi abbiamo un campo libero Mette ok Ma a me non me ne frega proprio un cazzo Ma in teoria è vinta Perché se io ci metto Hulk lì In teoria Oh pezzo De merda Che cazzo era sta carta Ah La può spostare ogni turno Su stronzo Quindi se io questo qua Che costava 11 Lo mettevo Eh no tanto non vinceva comunque Non vinceva comunque Niente sto deck ragazzi Non lo so Mi fa un po' schifo Ad essere sincero Forse perché non lo so usare Non lo so Il gioco Ma il gioco è semplicissimo Il gioco ci stanno tre esagoni Ogni esagoni C'ha un'abilità speciale C'ha all'interno Lo scopo del gioco E vincere due terzi di esagoni Due terzi di Due terzi di campo Ok Quando tu metti la carta C'hai praticamente La parte sotto Che è la parte tua La parte sopra La parte dell'opponent Quello in alto a sinistra È il costo del mana E quello in alto a destra È la forza Lo scopo del gioco È fare Riempire i campi Diciamo La somma Delle forze Della forza del campo Viene espressa In un numero Che viene scritto qui C'hai due terzi Dei campi più forti C'è Sempre sta carta Qua è troppo forte Questa Ma vediamo però Un più uno forza C'è È l'unica roba Devo cercare di capire Come funzionano Le cose Allora Questa lì costa sei Ok E lì ci siamo Porca Eva Ce n'hai due Addirittura Due No uno Due La partita finisce Alla fine del quarto turno Allora io sto Nella merda Più totale Proprio Ma proprio Nella merda Più totale Sto E mi sa che la metto qua Forza Cazzo Avengers Assemble Time's up Cazzo è E ma sto turno Finisce Porca troia Che cazzo Gli racconti Qua Tiene Un'energia Al prossimo turno Boh Secondo me Cioè Si che la metto No Questa qua Mi sono sbagliato Mi sono sbagliato Cristo Dio Mi sono sbagliato Vediamo che cazzo Si inventa In teoria Ok Ma io denculo ancora di più Vabbè un campo lo vengo io Un campo lo vengo io E lì non c'è piove Io faccio Hulk qui E tenculo Voi ci faccio Hulk E questi due Vai 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 Oh la madonna No questo no No porca troia Non è Eh però in teoria Se io metto questo qui Ecco c'è Lì Anzi prima me Ah te si è ritirato Ha capito che ha perso GG Ha capito che ha perso l'opponent Vabbè ci sta ci sta Ha capito che ci ha mangiato l'upisello Ma vedo che ci ha mangiato l'upisello No no Cioè sul rainbow Non ci gioco più purtroppo Ho smesso Penso Sei forte Grazie Marra Beh più o meno Dai Più o meno Allora il gioco ci sta È figo Vediamo Che due forza Le carte Uh Porca troia E questo è buono Cazzo Nelle mani dei giocatori Ma tutte le carte Wow Questa forza Dopo Ogni turno Le carte in questo campo Urca 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 Allora qua ci vuole Che iniziamo a mettere carte Qua dentro Vai vai Io Eh Gesù Cristo Ah però dopo quello la sposta La sposta a destra e sinistra però Quello è un problema dopo Tu pensa che scipita Non ci abbiamo una carta a costo Peccato Quattro Peccato Chi possiede Oddio Chi possiede Più carte Eh ma non ce l'ho Cazzo Eh un campo l'ho perso Vabbè un po' Una sfiga Una mano un po' Legnosa Cazzo Una mano un po' Legnosa La mia Una volta però È già la spostata Della È già la spostata Vabbè ma a me che cazzo Me ne frega Cazzo me ne frega A me Devevo Cosa Centrale No Cristo Dio Non è C'è pure quella C'è quella Madonna C'è quella Madonna C'è Cazzo Ma ci Tu C'è che la metti Allora io ti faccio No però aspetta Torno 5 Torno 5 Devo mettere dentro Iron Man Per forza Oppure metto dentro questo Che sicuramente è lì Almeno qua la vingo Ma che cazzo Dei racconto lì Ci provo Con Hulk 14 Più 4 Ci provo Ma non so Secondo me è meglio Che mi arrendo 14 Più 4 Boh 14 Più 4 Faticiotto Me ritiro? Secondo me C'è stata Da ritirarsi Secondo me C'è stata Da ritirarsi Cazzo Mangulato Con quella Carta di merda Era Da ritirarsi Subito Niente Peccato Peccato Vabbè Ci sta Ma questo Mi piace Io Dici era meglio Da ritirarmi Perché tanto È iniziata male Però più o meno Sto cercando Di capire Come funziona Il deck Dai più o meno Secondo me Potrebbe girare Ancora meglio Potrebbe girare Potrebbe girare Un po' meglio Potrebbe girare Secondo me Buongiorno Come stai Ciao bello Il vanilla E beh Oddio Il pizzaiolo matto Siamo contro Il pizzaiolo matto Vai Un italiano Però io E la fortuna Siamo due cose Veramente Io e la fortuna Siamo due cose Commendamente opposte Comunque Ragazzo Cristo Dio Vabbè 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 Qua Il campo Centrale Lo faccio Metto tutto Ah Secondo me Come deck Questo qua È tipo Che devo Ok Posizione Al quinto Dalla mano Di ogni giocatore Porca Vabbè Dopo il quinto turno Però Una merda Praticamente Cioè Questa qua Non posso Utilizzarla Mai Che schifo Perfetto Continua L'abilità Non si attivano E va un po' Buscio del culo Qua Effetto Continuo Sto pensando Perché in realtà Vabbè No perché Devo metterli Le metto qua Questo vince Lucampoli E' una maronna E' una maronna Il culo E mo dipende Tutto dal Buscio del culo Dipende dal Buscio del culo Adesso Vediamo Dipende Che ci metta Dentro Che cazzo Gesù Gesù Cristo Però ci abbiamo pure Ulca Non ci sbagliamo Allora Allora qua Qua è sicuro Oh io Snappo Vai Vediamo Dai ci provo Vediamo un po' Ci metto Urca lì In teoria Se in realtà Concede Dovrebbe concedere In teoria Vediamo pure Quello che cazzo Combina Perché 12 più 5 Fa 17 Vediamo Se riesce A mettere Più di 7 Roba Qua Più di 7 Così qua Ogni carta In mano Dell'avversario Vabbè Allora Lo roba a destra Lo vinta Quello centrale Vediamo E' vicina A pecorina Sempre E dai E' su Era pizzaiolo matto E dai Che mi stai Snapperà Dai E che Non ho capito Dai E' su Ok Yo Vai GG Solo 4 Perché non ha Snappato L'oponent Però Dai Più o meno Sto iniziando a capire Come funziona il deck Dai Beh Ci vuole pure un po' De culo eh Ci vuole pure un po' De culo Per Si trasforma In uno Degli altri Gambi Ok E' una partita Come quella De prima Cazzo Ma che roba E' la fotocopia Della partita De prima Spero De no Eh Non lo so Ancora Stacco Bello mio Non lo so Che roba E' una sola carta Qui Secondo me Se metto L'armor A sinistra Ci sta O a destra Guardando che cazzo Dai Metto l'armor A sinistra Io Cristo Fortissima Quella roba A destra Che cazzo E' una sola carta E' una sola carta E' una sola carta E' una sola carta Perché in realtà Quella al centro Turno 3 Questo 8 Ok Eh cazzo Qua non è bella Per niente La situazione Qua Questo che cazzo C'è che mi sta A fare Lo snap Adesso Snap Pure io Io vediamo Io Vai vediamo Sperando che al centro Non mette roba Di roba Oh cazzo No me sono sbagliato Come se nulla Porco No me sono sbagliato Eh me sono sbagliato Mannaggia a me Eh mannaggia a me La madonna Mannaggia a me E la madonna Ah però pure lui Si è sbagliato Mi sa Mi sa che si è sbagliato Pure lui Sicuro Si è sbagliato pure lui Si è sbagliato Mi sa Vabbè GG Vabbè solo 4 stelle Solo 4 Vabbè però ci sta Dai Ci sta Ci sta Dai più o meno Sto iniziando a capire Come funziona il deck Dai Come deck è figo Non è male È figo Non è male Oh Un deck è nuovo ragazzi Io che cazzo ne so Non almeno conosco le carte Che ne so io Al quarto turno Si trasforma in uno Degli altri campi Bisogna vedere che cazzo Dei campi sono Quelli Quell'altro Lo metto qui Lo metto qui Vediamo che roba è Ah È già una maronna Riempi Distruggere Ah devo passare il turno Per distruggere Beh in effetti Potevo passare il turno 2 Allora se io adesso Se io adesso passo Praticamente No Mi distrugge tutto Giusto Eh potevo passare il turno 2 Ui alala Interessante come situazione qua Vai Vanno più uno forza Dieci Dieci Però aspetta Però aspetta In realtà Secondo me ce l'ha Secondo me qualcosa Con effetto continuo ce l'ha Però voi mettere Mette questa roba qua Importante Cioè mi permette Di avere un sacco Di roba Poi al turno dopo Gli faccio work Qua sopra Alla fine Cazzo se vuole inventare questo Vedete qui Non lo so Aia Vabbè Vabbè Sti cazzi Ma io posso Favore questo qui Cioè se io faccio Questo qua Meglio Questo Secondo me è meglio questo Meglio Iron Man Che raddoppia 26 invece Deve 12 Io Snappo pure io Vai Io Andiamo Vediamo Secondo me Con Iron Man Se vince Perché mi dà Un punto in più 26 invece Di Invece Di 25 Poi dipende Quello che cazzo fa Minchia Ah Snappo pure lui Ok Ok I am Iron Man Aia Eh ma Mangulato 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 Con lo Shangui Con lo Shangui Con lo Shangui del cazzo Vabbè Ci sta Oh Iron Man Potenziato Vai vediamo Bello 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 Mi piace La Varchiria Questa non ce l'avevo La Varchiria La Varchiria Non ce l'avevo Figa Qua c'è un po' De missioni Che devo completà Vinci Un campo Con una sola carta Toste Quello è veramente difficile Te l'ho messo dentro Lo culo Ma non lo so In realtà Vediamo un attimo Grazie mille Luca Ciancia Tre mesi di resab Grazie mille Vero mio Grazie Eh in realtà Si me l'ha ficcato Dentro il buscio Nello culo Praticamente Su questo campo Puoi selezionare Solo Puoi posizionare Solo carte Che costano sei Cristo Una merda Praticamente Ci metto solo questa Ci metto solo Hulk Là dentro Brutto Brutto Quarto turno C'è il 50% Ma vediamo No Oh Porco ladro Dio Lo sapevo Praticamente Qua stiamo Nella merda Più o meno A turno un 5 Che cazzo è Che può mettere Questo Ma io credo Niente Cioè se io metto Questo qua dentro In teoria Vediamo Chi vince Tre Ok Quindi questo C'ha 12 A 14 Ok Indorina C'ha un cazzo Snap Ecco Ragazzi Eh per Troppo Per forza Qua al centro Lo devo mettere Questo Vediamo Vediamo Che roba ci mette Vai Vai GG 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 Yo Eh Gli piaceva vincere Questo Vai Urk potenziato Yo Bello Bello Urk Vai Vai Io andammo Ciao Rinaldo Rinaldo amici Ciao bellissimo Come stai 10 mesi Re sub Grazie mille Allora Quando viene spostata Una carta Ottiene più due forza Ma noi non abbiamo Carte che spostano Bisogna pure vedere Che tipo Dede che è Quello dell'opponente Ma lì sopra A me me fa schifo A mettere la roba lì Oh io lo metto A destra Vediamo Un po' A culo Un po' Azzardata Come roba Che maronne Porco Ma che cazzo Me dici Cioè praticamente È una merda Invece no Invece no Sai ma te Finisce il turno 4 Però In realtà Bisogna stare Perché in realtà Non è detto Che finisce Metto questo Anzi Se io faccio Così Poi metto La carta La 4 Al centro Tanto Il drop Questo qua Sinistra E cazzo Non mi frega Vaffanculo La fessa Mamma Oh Beccate Sto Sto Madonna Vai Io vediamo Un po' Se riusciamo A vincere Allora Un lato L'ho vinto Il secondo C'ho 6 De coso Vediamo Che roba C'ha 3 3 6 In realtà Lì se pareggia Vengo io Però Vengo io Cazzo Eh Ci sta Eh Ci sta Tan 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 Questo l'ha pigliato Dentro Buongiorno Leopardi Buongiorno L'ha pigliato In culo Questo Dai Figo Figo L'ha preso In culo Eh L'ha preso Simone Questo qua Italiano Sicuro Italiano Italia Uno Forza Dopo Dopo ogni tono Le carte In questo campo Eh Noi ce l'abbiamo Le carte Da mettere lì Maronna Urf Diavul Dio Eh 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 Peso Peso Nebula Orco Orco Di Peso Peso Di E' brutta come roba E qua mi sa che è persa Eh faccio prima concede Vediamo Vediamo Vabbè una a testa dai Curco diavolo Non puoi giocarla se ne ho giocato un'altra carta Ah che merda però Che merda Eh snappa su questo gazzo Non snappate Eh snappate su questo gazzo Vediamo che cazzo fa Vai 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 Oddio santo no non mi dica che riesce a Ok GG bene Oh l'ho vinta a bucio del culo ma l'ho vinta Matteo non ti sentiamo Che vuol dire che non mi senti scusa Hai cambiato deck eh Sì sì ho cambiato deck Yo yo Ah Eh questo voleva vincere ma ci ha mangiato un grande cazzo ci ha mangiato Vai Yo Ci ha mangiato un grande pisello ci ha mangiato Vediamo un po' Dopo il quinto turno Più due Posizionate qui Greve Come fai Turno uno lo devo passare Porco cazzo Nesbula Che è Nesbula Nebula Vabbè io lo metto al centro Ok Quello è forte Arca Arca Allora non è facile E qua la situazione non è semplicissima Dai però ha cagato il cazzo Questo Questo mi snappa pure Hai capito tu 4 Da voi giochi qui una carta distruggila porca troia 16 quindi questo c'ha 16 dopo qua Ma che tempo di servia Ho perso Aspetta un pochino Ma la faccio prima a ritirarmi ragazzi Ho perso Me l'ha ficcato in culo Me l'ha ficcato in culo Quando ho perso Ho perso due cose vabbè Due stelle vabbè Ci sta ci sta Me l'ha ficcato in culo Me l'ha ficcato porca troia Me l'ha ficcato in culo Tu pensa che testa di cazzo Queste carte che sposti fai Vaffanculo Due rap Vabbè Così è abbastanza easy la roba no? 3 Vediamo Ma io da snap Naspo subito Da snap Vaffanculo Io qua ci metto subito questo qua Che Non può essere distrutto niente Così La parte sinistra in teoria Con 9 Me la potrebbe Me la potrebbe fare Un bucio di culo Comunque Cazzo Questo non lo sapevo Lui tanto sarà impegnato Sicuro a mettere la roba qua A mettere la roba a destra Sicuro Lui è impegnato A mettere la roba a destra E noi qua Continuiamo qui A mettere la roba nostra qua Ok Cazzo è Ma che cazzo è Viene aggiunta una carta Cazzo fa questa Finché si trova Non puoi pescare carte Porco dio Ma come Ma come Ma come Ma come Torno 5 Torno 5 Torno 2 Torno 5 Ma che cazzo è Ma io ci metto Iron Man qua Metto Iron Man qua Anche se non sfrutto il coso lì Vediamo che cosa succede Orco diavolo Lo sapevo io E lo sapevo E quello là E quello là Gli va a dodici I am Iron Man Ma il cazzo Gli racconto Cazzo Cazzo gli racconto Mi conviene concedere Ah no Ormai So snappato Pur io Vai Eh 538 538 Questo sta Otto lì È l'unica roba Che posso provare a fare Eh vediamo No Non è Non è Non è Non è E E Stamattina Come cazzo fai E vabbè ragazzi Che devo fare Che è successo Scusami Oggi Mi sa che oggi Tra la burca Eh sì sì Esatto Questo Questo c'è Questo qua ho perso io Vabbè Vai yo Warpander Bella bella Io Ma sai che vi dico Io quasi quasi Mi faccio un nuovo deck Mi faccio un deck Io mi faccio Faccio un mazzo Io Ma sai che vi dico Secondo me Un deck Con Tipo la combo Com'è Odino Com'era quella lì Con Odino Odino White Tiger Quella lì Secondo me ci stava Era figa Do sta White Tiger Odino Ci metto dentro Odino Odino O ci fico dentro White Tiger Non è male Odino White Tiger Però Per il fatto che Devo studiare Tutte le carte Perché non Lo so Ok Così a me Non me ne metto Tutte le bande Precise Allora Alla scoperta E alla scoperta Non Non Spesa Effetto Continuo Questo Mi faccio Una scoperta Questo campo Electra pure Non è male Però Vediamo se ci sta Qualcos'altro Per due Forza Non lo so Ah questa è figa Questa mi piace La gente Questa ci sta Alla scoperta Aggiungi Una carta A scogliattolo Non lo so O lo faccio Un po' aggressivo Il deck Con Squirrel Ci metto Squirrel E più ci metto Qualche buffa Sopra Che buffa Tutto Tipo Antman Squirrel Le antman Cazzo Questa qua È figa Uomo di ghiaccio Questa qua Te fa Beste mia Come una maronna Uomo di ghiaccio Ti fa Beste mia La scoperta Dopo che giochi La tua prossima Carta Spostala Mescola Mesca Una carta Dal mazzo Dell'avversario Se hai giocato In questo campo Durante Spostata Carta Dove cazzo Dove cazzo Dove pare Questa è pure Una bella Carta Tempo Questa è figa Una figata Sì sì Lo so Lo so Hai Wong Non lo so Che c'ho Non lo so Mo vedo Effetto Continuo Tarò Che era la scoperta Più due Forza In questo campo Durante il turno È un po' difficile Da giocare Più c'altro È a bucio De culo Quando hai questa Carta In mano Puoi vedere I campi Nascosti Permetti Di vedere I campi Nascosti Anche dopo Che la giochi Wondu Ci sta La medusa Pure non è male Però è un po' Un po' lentina Secondo me Devo partire Da le carte Pure quelle grosse Tipo secondo me Iron Man Ci va sempre qua Su sto deck Su questo tipo Lucia Iron Man Do sta Iron Man Ci va per forza Qual è la carta Quella nuova Che ho trovato Inizia Dal fondo Del tuo mazzo Cioè Inizia al fondo Per scrivere Sto La carta Dal sesto Turno Questa cosa Che sarebbe Praticamente Questa È una carta Che tu metti Dentro il deck Poi metti Tutte le carte Più basse Cioè Sicuramente La pescata A turno Sei Ah eppure Questa È bella Figa Questa Quando scarti Spectrum Che faceva Più due forza Idioti Un 5 Che costa Un 5 Che tarda 9 No E cazzo Sto sbagliato Allora È pure Hulk Non è male Questa pure Da una bella roba Sempre solo Al turno 6 Sì sì Lo so Al turno 6 Perché Peschi quella È sicuro Al 100% La peschi Al turno 6 Quindi è forte Secondo me Solo al turno 6 Effetto continuo Assegna Tra le di forza Tutte le carte In questo campo Però costa 5 Alla scoperta Questa è forte Questa è forte Cazzo Questa ce la metto Porca troia Questa mi piace Questa mi piace Veramente Mi piace Quella mi piace Veramente tanto Alla scoperta Più 5 Forza Se l'avrà giocata È troppo rischioso Più 5 Forza E che cambia Tra qui Ah è uguale La camorra Camorra Effetto continuo I giocatori Possono giocare Solo una carta Per turno Eh però Devi giocare pure Effetto continuo Blocca questo campo Questa è bella C'è anche Thanos Sì sì C'è stata Thanos Però non Non ce l'ho Ironland Questa qua è la carta nuova Copia In cima al tuo mazzo Questa che cazzo è Ironland Questa qua è nuova Un 4-6 Porca Eva Ah io lo provo Oh oh È una madonna È fortissimo Cazzo Copia il testo Quindi per esempio Potrebbe essere Un Ironland Può essere Una Una White Tiger Potrebbe essere Un Odino Per assurdo No questo che cazzo è Questo non ce l'ho messo io Potrebbe essere Cioè è fortissima Cazzo questa carta Ironled No 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 Gioco a Jessica Jones E ora vediamo Forse ce l'ho White Queen Pesca una copia Della carta Dal costo Maggiore Nella mano Dell'avversario Pesante Pesante Questa Tutte carte Sì Effetto Continuo Effetto Continuo La scoperta Che cazzo Serve Aggiungi Questo qua L'ho comprata Prima Aggiungi In ogni Campo Una carta Casuale Di costo Uno Sapete che Secondo me Questa qua Va in combo Con Dove sta Quello che costa Cinque L'umadonno Non so se ce l'ho Sì eccolo Shanna Secondo me Va in combo Con questa E va in combo Anche con Va in combo Pure con Magari Con Squirrel Secondo me Sì sì ma Stiamo a vedere tutte le carte Stiamo a vedere piano piano Vediamo tutto Allora vediamo Abbiamo questa Poi Questa qua che raddoppia Tutte le carte Questa pure non è male Però In questo Cioè secondo me Questa qua va in combo Con questa qua sotto Con Il coso Quello a cinque Come si chiama Quel devil Dinosauro Che però Non ci faccio nulla Perché non All'inizio del sesto turno In modo Tutte le Abilità Delle carte Della mano Cazzo Questo è È un dito in culo Cioè questa qua Praticamente questa qua Gli levi tutta Tutta la mano Cioè questa qua È una carta control Super potente Secondo me Un mazzo control Questa è tipo La fine del mondo Grazie Samu Sei mesi Dele sab Grazie Allora Poi ci abbiamo Vediamo No Non ci faccio niente Questa Scarta una carta Alla domani Eh Questa è forte Questa secondo me Ci va Questa è una Delle carte Più forti Che Cioè Questa è Un remove Molto forte Jessica Jones Eccola Questa pure Ci deve Sta Secondo me È forte Figa Poi dopo La carta alleata Non ho capito Scarta Questa che è La scoperta P2 Forza Se tu avversari Hai giocato Una carta No Troppo rischioso Troppo È troppo random Come cosa Più forte Se Ha giocato Una carta No Vabbè Tutte Gruta Cyclops 3 4 E basta Quando viene Spostata Distruggi Questo Campo Ho scoperto C'è Praticamente Questa qua Distrugge Un campo Poi ne rimangono Solamente Due Che cazzo Servono Ma questa È forte Questa va Per forza Troppe carte Costo 4 Sì sì Infatti Mo le levo Intanto Sto Io le sto A vedere Adesso Le carte Le sto A leggere Ma vediamo Affetto Continuo La scoperta Sposta Forza Maggiore Affetto Continuo Inonda Il campo Il prossimo Turno È l'ultimo Nel quale È possibile Non lo so Non mi piace Troppo lenta Per due Forza Alle due Carte Più a sinistra Nella domanda Ci sta Carina Affetto Continuo Carino Mi piace Il campo Per ogni Che possiedi In questo Campo Più due Forza Quindi se Possengo Se possiedo 2 4 6 Quindi Attorno 3 Metto Un 7 3 7 Carino Ma Ah il Bishop Non lo so Costa 3 Troppo lento Questa È bella Ci potrebbe Sta Più due Forza Ad altre 3 Carte Questa pure Non è male Come carta Nel prossimo Turno Entrambi i giocatori Possono spostare Carte In questo Campo Ti faccio saltare In aria Ma la scoperta Pure non è male Aspetto Continuo E sto a pensare Perché in realtà Il deck Allora ci abbiamo Questa Qui Questa Mi serve Carte Costo Due Ma ti dirò Questa Non è tanto Importante Beh si Importante Questa cosa Secondo me Importante Perché Teniamo Le carte Però in realtà Non è così Importante Questa È forte Se c'hai Tipo Le carte Che quando Vengono Distrutte Ti Mettono Altre Carte Questa Ci deve Sta Per forza Secondo Vediamo Vediamo Più due Forza A ogni turno In cui l'avversario Non gioca una carta Senza contare Il turno In cui l'ha giocata Ma non lo so Più uno Forza Quando viene Distrutta Esatto In combo Con questa E con quell'altra Secondo me Ci potrebbe Portare Altre Cose Viene Dopo Che giochi La prossima Carta La tua Prossima Carta Sposta A Sinistra Dopo Che giochi La tua Prossima Sposta A Sinistra Mescola Una roccia No Pesca Una carta Dal mazzo Dell'avversario Più due Eh Questa Pure Figa Ma Allora Quante carte Costo Tre Ci abbiamo Costo Tre Uno Due Secondo me Devo Togli Una carta Costo Quattro Questa In realtà Non è che Mi piace Tre Che Questa È Figa Costo Costo 5 Ce ne abbiamo Troppe Non mi piace E questa La levo La levo Mi serve Una carta A costo Due Tipo Questa Qua Effetto Continuo Che tipo Non possono Essere Distrutte Alla fine Faccio Tipo Questa A costo Due Lì Poi Ci metto Sopra Un White Tiger O Altra Roba Ci metto Sopra Che ne so Questo Insieme A Che Cazzo Ne so Ci butto Sopra Un Pisellone Tipo Tipo Hulk Questo Hulk E questa E questa è Una bella Carta Questa Te fa No Questa Non mi piace Quella A costo Uno Non mi piace Ne lascio Solo Una A costo Uno A costo Due Vediamo Se ce ne sta Qualcos'altro A costo Due Aggiungi in questo campo Una carta clone Clone di sinistro Con la stessa forza Più uno Forza Alle carte Nel Tomazzo Allora Secondo me Il tuo avversario Pesca una carta Pesca una carta E il suo costo Diventa Sei Quando viene Distrutta Viene Regenerata Buongiorno Ragazzi Buongiorno Buongiorno a tutti Allora Un attimo solo Perfetto Continuo Eccola Più due Forza Ad altre Tre Tre Carte Quindi Però Costa Tre Cioè Un Tre Zero Allora Posso mettere pure Questa Che non è male Però Due Qua ci vorrebbe Tipo una Sentinella Alla scoperta Cioè Questa Troppo Troppo Lenta Tipo una Sentinella Anzi Anzi no White Scarlet Cazzo Cazzo Si è forte White Scarlet E' fortissima La scoperta E ci siamo Uno Due Forse Forse Leverei Tipo No Non levo Un cazzo Forse Questa Che cazzo Ci fai Però in realtà Questo potrebbe Bessere forte Perché Mette Costa Tre Però Se c'è qualcosa Che veramente Conviene togliere Al posto De quello No Questo mi piace Sto Ecco Vai Cazzo Ecco Vai Vediamo Com'è Vediamo Come Work Non lo so Vediamo Vediamo Io Ui No No Mi sono Sbagliato Fermate Fermate Dio Vai Ciao Sebastiano Garra Ciao Bello Come stai Buongiorno Filitaria Ciao Bellissimo Vai Vediamo Com'è Sto Deco Dopo Il quarto Turno Ah Però Questa Qua In realtà Non ci faccio Un cazzo Perché Non me Leva Niente Cioè Non me Da Niente De Buono Quindi In realtà Questa La posso Togliere Però In realtà In questo caso Potrebbe essere buono Il troppo da tre Che ci distrugge Il troppo da uno Quando ride Che aggro Turno due Dopo il quarto Torno Chi vince Ok Effetto Sorpresa Questo alla fine Chi riempie Per primo Ottiene Una copia Questo qua Mo lo cambio Dopo lo posso Cambiare Questo è il cazzo Ci vai Ma perché Non me so Chilo Bisellone Vai Vediamo Che cazzo Succede Mo ci metto Quella lì Dentro Così Almeno Gli rimuove Tutte le carte E questo qua Ci mangia Lo cazzo Io vediamo Ah Indistruttibile Porca Eva Vabbè Comunque Figa cazzo Ma in teoria Se metto White Tiger qua Poi Odino Questo me deve Fanno un bello Pumbino Ci fa pure Rima cazzo White Tiger E che non può Toglierla Non la può Toglier White Tiger Oh cazzo Dio No Mi sono sbagliato Porca madonna È vero Non mi sono ricordato A mo mi sono ricordato A mo mi sono ricordato Vabbè Porca troia A mo mi sono ricordato Ok però abbiamo Comunque Ci ha mangiato Comunque Lo pisello Dai GG Man GG GG Comunque Ci abbiamo Ci ha mangiato Lo pisellone Qui su Quindi GG Yo Dai 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 Fremdeck Yo Vai Yo Con la Se Bello Preciso Buongiorno Quel Mano Buongiorno Matt Borrello Buongiorno Anche il Salotto De Giammi Buongiorno Luca Castro Che bello Allora Noi ci abbiamo Devono A quinto turno Tutte le carte Devono essere giocate qui Meglio posso giocare pure prima le carte No Due forza Orca diavola Ah Bono Beh Qual è il campo Questo è il campo Il campo Il campo Questo qua Cazzo Questa Mo Te la ficca Dentro Lo culo Vediamo Quello che gioca Va bene Qualsiasi carta Gioca lì Io ho La carta Da 4 Proviamo A vedere Proviamo A vedere Che roba È Proviamo A vedere Che roba È Questa Copia Il testo Non so Che roba Sì Oddio Cristo Ma che Cazzo È 12 È Forte Gesù Forte In culo No Aspetta Questa Posso Mettere Al centro C'è Una parte E All'altra Ma ti dirò Io metterei Urk Qua A destra Metto Urk A destra E via Vai Vediamo Secondo me Questo qua Si arrende Prima Dai Si arrende Prima Per forza Secondo me Si arrende Sì No Ma che Cazzo È Ma Io Non ho capito Porca Troia Più Più 6 Forza Se non Hai Più Carte In mano Scarta La tua Mano Porca Più Uno Forza Dopo Che giochi Un'altra Carta Cazzo Forte Ah Non lo so Non lo so Non lo so Ma mi piace La fine Il gioco E bishop È forte Cazzo Io la Sottovalutata Ma invece È Forte In culo Però devi Ave pure Che ne so Tipo Carte Agro C'è Carte Che costano Un po' Un deck Che costa poco Ti possiede Meno Meno Forza In questo Campo Meno Forza Ah Meno Forza Uff Che cazzo Mi dice Quello Sì Meno Forza Qua passo Non faccio Niente Perla Maronna Vabbè, buono, buono, buono Poi me ne metti una copia pure da là Ah no, io c'ho questa qua, è la sorpresa Io c'ho la sorpresa finale, è bello mio Non è che me devi stappiare per il culo Ah io c'ho la sorpresa, io c'ho la sorpresa finale C'ho la, la ciliegina sulla torta, come si dice Ci c'è? Io c'ho la, la ciliegina sulla torta Sì sì, questo è un pochettino Sì sì, io c'ho la ciliegina sulla torta C'ho Scarlet Witch che, te leva tutto, te leva Te leva pure la voglia di, di far tutto questo Una madonna Oppure è meglio tipo, meglio tipo questa No, secondo me è il tipo meglio questa qua Eccola, perfetta Cambiare, cambiare i gambi? Non ti credo Eh, manco io Vai, 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 io, 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 vai, vai Oh porca, ho sbagliato? È vero Che cazzo Cazzo questo è greve No, non ci credo mai nella vita ragazzi Porca troia, non ci credo Te sta a piacere? Sì sì, ma a me mi sta a piacere a te A te ti piace? No, no, a me è figo, è figo, non è male Porca troia Che errore del cazzo Questo ha fatto Le carte di costo 6 hanno Hanno il costo ridotto di 1 Praticamente non c'ho nemmeno una carta a costo 6 No, è turno 4 Quando una carta viene spostata No, è turno 4 Gliela ficchiamo alla supposta Gliela ficchiamo alla supposta da dentro A turno 4 Ah sì La carta di costo 6, dice Questa costa 2 Vabbè, non mi interessa Vediamo che cazzo se mi benda l'opponente Eh, dalla Urco di e cavola Vabbè, buono cazzo 9 di energia, porca troia Portameli via Oi Però non serve un cazzo qua la strategia Deve mettere Vabbè, questa la levo dopo Con il drop da 4 Alla scoperta Vabbè, snappo pure io Sti cazzi, snappo pure io Cioè, questa qua è vinda in teoria Perché c'ho questa qua Questo qua in teoria Più uno forza In teoria questa qua dopo la mano Quello ammazzo questo in teoria Eccentious Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Urco Dio Urco Dio però Posso dirlo, porco Dio? L'unica carta che non doveva prendere Vabbè L'unica carta che non doveva prendere Quasi questi Quasi questo lo scarico Ci 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 Vabbè No ma è figo Rimuovi tutte le abilità In effetti Allora, questa Elimina L'ucazzo che te sei in gola Elimina Non elimina un cazzo Devo far cucire Devo pure preghe a Dio Devo far cucire preghe a Dio E vai Preghe a Dio Preghe a Dio Vai Preghe a Dio Sì ma può essere che Questo qua Mi sta sniper a stutezza De cazzo Si chiama Shift Nick Vedete che mi conosce? Grande SG lì Ma davvero Ma vaffanculo Eh questo mi ha fatto male Questo mi ha fatto male Allora Vediamo Dopo che giochi Una carta di costo 3 o 4 Spostala qui Allora fammi pensare Vabbè Ti faccio cucire Vediamo che succede Io avevo Shang Ki Bellissimo Ben Brodon Che cazzo Ok Questa qua L'ammazzo Questa l'ammazzo Vabbè Vabbè Ti metto continuo Vabbè Ci metto questo qui Al centro Vediamo che succede Lì Questa che roba è? Costa 3 Questa costa 1 Quella costa 2 Orca 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 che merda Ehm Vabbè Facciamo così Perchè Questo mi ha snappato Ehm 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 Eh lì costa parecchio Devo fare Devo fare La scoperta Però dopo Li posso togliere Tutti In effetto Continuo Boh Vediamo un po' Se riesco così A vingere il lato Lì Vabbè Dopo Allora Metto Iron Man qua E poi ci metto Sopra Odino Ci metto Sopra Odino Vediamo I am Iron Man Più o meno Odino Ma io ci metterei Odino Odino 18 28 26 Vabbè GG Ehm Ho scaricato Ma non ho capito Non ho capito molto Ma è semplicissimo Allora Qua ci stanno tre campi Il primo campo Il secondo campo E il terzo campo Ogni campo Ogni campo C'ha un'abilità Speciale C'ha un'abilità C'ha un'abilità Speciale Ogni campo Ok Ogni campo Il primo campo Si Il primo campo a sinistra Si scopre il primo turno Il secondo Al secondo E il terzo Al terzo Ogni campo C'ha un'abilità Speciale Devi mettere carte E poi E poi E poi vince Chi Che c'ha due terzi Del campo Ma è semplice E vince Chi c'ha Maggior potenza Cioè Come Come Diciamo Come Arche tipo De gioco È semplice Non è difficile Io Una cagata Più o meno Una cagata Più o meno Pure Odino Ci abbiamo Questo qua Mi sa che Ma io giusto Per mettergli Un po' De paura Ci abbiamo Una mano Che fa schifo Venosa Grande C'è una tanna C'è una bella Quanti punti base C'hai C'è No come Non male che ci sei te Hai solo Carte base Non lo so Vabbè Quella si eleva Con Il drop Dopo che giochi Una gara Tre rocce Nel tuo mazzo Vabbè Io Vabbè Qua gli cambi il campo Ho il centro Perché non mi piace Vediamo Ma che sfiga Della madonna Porca Ma che sfiga Della madonna Eh vabbè Vabbè Non ti speriamo L'abilità L'ha scoperta Anzi forse È meglio Questa Sai Beh è meglio Che non può essere Distrutta lì La rosa Ci metto Questa qui E qua dentro E poi ci metto Odino Poi ci metto Odino Che è Raddoppiatuto Odino Ma in teoria Con Odino Questa diventa Un Dieci Cioè Quattro dieci Questa qua diventa Dieci di potenza Qua I am Iron man Anzi no Chiodino Ci metto dentro Urca qua Urca oddia Buon morto Oddio Con Urca qua dentro Lo diventa grosso Questo eh Per preciso Un Urca lì Ragazzi 12 Più 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 14 28 Easy Questa qua è vinta Vediamo che cazzo Si inventa l'opne Ma secondo me Concede Si si vai vai Magna il rubicello Vai vai Si si stasera Niente live Ragazzi Viglio GG Vai vai Bella Iron lad Subito Bella Precisa Subito Oh Vediamo un po' Ronan Effetto continuo Un cazzo Che te sei in cuna Ronan Carina Si si Questa qua Era proprio Easy win Si si Stasera è lunedì Oh ma che è Pure lunedì Ma io posso Stream ma quando mi pare Allora questa non mi piace In questo campo La carta O le carte Con la linea sinistra Non mi piace La cambio La cambio ora Bella Il doppio della forza Porco diavolo Quindi qua dentro Se io ci metto Tipo questa Al turno 5 Non devo giocare niente Al turno 5 Diventa Gesù Cristo Cioè praticamente Mi stai a dire Che qua diventa Un Gesù Cristo Qui dentro Diventa Gesù Adesso devo Rimpiare qua a sinistra Turno 4 Che ci metto lì Iron led Un bello 4-6 Un bello 4-6 Qua A turno 5 Non gioco niente A turno 6 Ci metto Lo sei Venti là dentro Che vince Il campo lì Bella Una maronna Ok quindi Non puoi giocare Se nell'ultimo giorno Ho giocato un'altra carta Vai Easy win Yo Dai Cazzo Ma questo Che cazzo fa Pure qui su Ma che maronna Fai Ma che cazzo fa Ma che è stupido Si Sono platino Zeta Feta Ma è buono O fa schifo Una maronna Si si Ti saluto Guarda un po' Che bello 42 Eh Carcatraia Questo mi sa Che è proprio Aderitato Lo gioco Dio Cristo Dai GG Carta rara Bella Precisa Vai Andiamo Gioca Gioca Ma secondo me Ci sta Come il deck Come il deck Che figo Il mio Alcune carte Forse le verei Tipo l'1-2 Perché non è che Gira bene l'1-2 Ma io non ce ne metterei Manco una A costo 1 Perché comunque Ci abbiamo Ci metterei più Una carta a costo 2 Forte Utile Che una carta a costo 1 De merda Non è obbligatorio Giocare subito A costo 1 E dopo ci abbiamo Pure questa qui Che rimuove Tutte le carte A costo 1 Quindi Secondo me Rimuove tutte le carte A costo 1 E abbiamo pure Il removal Per togliere Le carte A 9 Secondo me Questa Iceman Non serve al cazzo Ah Grazie Mi ho cucinato E' a secco Però Diciamo Ora vado a togliere Subito Ora vado a togliere Subito Questa la levo Allora Una carta a costo 2 Utile Ma De carte utili Io non è che ne vedo Chissà che Costo 2 Ok Aspetto continuo Per forza Allora Prossima carta Che giocherai Che in realtà Non è male Ma in realtà Ci posso mettere Pure questo In realtà Questo qua Non è Secondo me Non è male Peschi sempre Questa carta Al turno 2 E non prima Un 2 3 Però senza effetti Il tuo avversario Pesca una carta Quando una carta Viene scartata Quando una carta Viene scartata No ok O De collector Forse No 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 Oppure ci lascio Le carte a costo 2 Nel deck Iniziamo a giocare Dal turno 3 Però troppo lento Dopo Non mi piace O veramente Ci mette la medusa Per il momento Questa che facciamo Questa pure è forte Questa è forte Vai Quella è forte Scorpion è forte Mi piace Rosino Rosino costo 2 Abbiamo No Rosino Oddio Che è il colletto Rosino Chi è Rosino Ah Rosino L'ha ponente Ti consiglio Okoye Chi è Okoye Dopo che ci sono Dopo ogni turno Nel caso ci siano Più carte Su questo campo Distruggono Dopo ogni turno Quindi Noi alla fine Lo cambiamo Questo Turno 6 Andiamo Ok Rosero Cambio Il campo Cioè praticamente L'opone Non sta a giocare Eh no Non gioco Alla scoperta Rimuove Iron led Copia Vediamo Bello Ah urk Devo togliere Devo togliere urk Perché Se no Iron led Mi copia Questo qua Dopo non va bene Che è questo Alla scoperta Ehi Questa è scherzata Io metterei Questo qua Dentro Subito A turno dopo L'ultimo turno Quindi io direi Mette questo qui Così Mette questo qua Ecco c'è Per forza Vediamo Ah proprio Così me lo dici Tutto a buscio De culo Praticamente Meste Solo nel caso In cui mettessimo Dino Lì Però Me la gioco A 55 Secondo me È meglio Deco C'è Però A meno Uno È zitto È zitto Pure qua Devo fare Una roba Tipo Effetto Continuo È l'unica Cosa che posso Fa Devo mettere Questo qua Però in realtà Io non perdo Lì Io perdo Qua Se mette Qualcosa qua Ok GG C'è A buscio De culo Questa A buscio De culo Questa A buscio De culo Questa A buscio De culo Proprio Questa È stata A culo Hulk A destra Questa A buscio De culo Ma tanto Vincevo Comunque A prescindere Se lo mettevo Sia a sinistra Che a destra In ogni caso Vincevo Che roba è Blue barbell Oh Questa è bella È solo nel caso In cui fosse Odino Però Comunque A culo A culo Sono riuscito Comunque a vincere Ah Gli effetti Alla scoperta Non posso essere Attivati In questo campo Una merda Insomma Che a me Stai Dica È una Cagata Eh vabbè Dio Cristo Dio Cambiamo Il campo Qua Ma scusami Scusami Io ci ho messo La cosa Che voglio Cambiarli Il coso Perché E questo pure È bello Pesante Questo È bello Pesante Eh vabbè Più o meno Allora Allora Ah questo Già Snappa Cusci subito Eh Snappa Snappa Iron Iron Led Vediamo che Robo viene fuori Con iron Led Vediamo Wet Soldier No Una merda Una merda Allora Non ci sono Removal Al centro questo lo gioco Perché se lo gioco No Allora secondo me questo lo devo giocare Da nessuna parte Penso che sia persa comunque la partita Credo Credo ma non ne so sicuro Eh deve andare qua 50% 50% Vediamo No ho perso comunque No 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 50% Vediamo Vabbè un po' di sfiga qua 50% deve andare dall'altra parte Invece è andato da quell'altra Cava Grazie mille cava 111 Grazie mille dell'host Del raid anzi Grazie mille Grazie Eh no 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 Non è petwin sto gioco No assolutamente Anzi No no tutto il contrario Tutto il contrario del petwin Fa me se c'è tipo qualche altro deck Che posso usare Che questo l'ho creato io sto deck Va vede se ci sta tipo Che ne so Un bel deck Questo l'ho provato prima Che non è male Questo per esempio È già fatto Allora Come se le rimanano i mazzi Questo via Questo Questo lo lascio Questo via È pay to skip Cioè che significa Che è pay to skip Che significa Non ho capito Questo via Ok In colla io Ci abbiamo questo Da provare Poi ci abbiamo Come se le rimanano i mazzi Come se le rimanano i mazzi Come se le rimanano i mazzi Ma è tosta Ma non si può mettere tipo un filtro Dove c'è scritto Craftabile Ok Wanted Su wanted Allora fammi vedere Ci abbiamo Abbiamo questa qua Con Capitan America Che comunque Non è male Qualcosa che non ho mai giocato Questo Non l'ho mai giocato Insieme a Squirrel Questo dovrebbe essere figo Questo è bello Questo lo vorrei provare Questo qua è tipo Un ammazzo aggro Tipo Come no Tu giochi a rasta Ma ogni tanto Ogni tanto ci gioco Sì sì Ogni tanto Ma giusto Ma poche volte Poche volte Non tantissimo Però Sì Quelle poche volte che gioco Ci gioco Questo pure Lo voglio provare 20.000 game Sono stati fatti Con sto deck Oh Mi sto sbagliando Da provare Allora io Inizio con Inizio con questo Da provare Vediamo Vai Arrivo Beh questo qua Lo posso passare No Per ogni Unità Di energia Non spesa Quindi diventa 0-2 tipo Questo Corretto 3-0 3-0 Paso ma vaffanculo mamma da la grande sta ramona 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 la grande la grande sta ramona 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 lì a destra vediamo che succede interessante interessante questa la metto qua a sinistra vediamo che succede ecco porco ma l'unica che non doveva venire l'unica che non doveva mettere dentro il campo cazzo e c'è la messa e allora sei veramente uno stronzo questa è un po' di sfiga eh vabbè non ce voglio credere pure e mo passiamo non faccio niente non faccio niente torno dopo abbiamo questa ma dove andrà questo noi turno 5 non giochiamo nulla oppure c'è oppure c'è noi turno 6 noi turno 6 noi turno 6 però possiamo fa' questa metterla metterla dove cazzo ci pare si adesso passo cioè la posso mettere dentro qua per esempio però allora ragioniamo perché a destra a sinistra ho perso ma secondo me la devo mettere a sinistra questa la devo mettere qua secondo me come cazzo fa' vince 29 secondo me se faccio così vingo e invece e invece vabbè è un po' difficile vaio aumenta certo che se gioco stile è che un po' così un po' esotici è un po' un casino però guarda che c'è subito una sfiga della madonna 33% ottiene una copia che cazzo è della mano avversaria quindi lui c'ha Odino gioco un deck con Odino l'opponente ma guarda la maronna dimmi tu se non è sfiga no guarda lo porco potete non me fa di cose molto brutte guarda allora va e mo' come la mettiamo lì? rimuovi tutte le carte rimuovi tutte le carte questa che fa? madonna oh sta a giocare le stesse carte che gioco io ma è incredibile ok ok lì ho vinto perfetto forse allora turno 5 turno 5 e questo la metto tipo qua vediamo la metto lì vabbè capit'america che è? ah capit'america che la so pescata adesso vabbè in realtà noi possiamo fa' cuci no? vai vediamo dai forse è vinta si è ritirato gg 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 questa era vinta dai questa era facile da vincere dai mamma è da troia grazie ma quant'anni c'hai? scusami tu che mi sei scritto mamma è da troia ma non giocare manco neanche 13 anni ma dov'hai? ma tu che c'hai l'account tu che c'hai l'account dal 2021 ma tu neanche devi stare su twitch ma torna a ciucciare un cazzo di tuo padre ah no eh questo ce l'ha il troppo da 3 ce l'ha ce l'ha turno 5 non devo giocare niente quindi vabbè faccio cuci vediamo oh figa marì figa la maronna figa la maronna figa la maronna è buona eh è buona più o meno vediamo vediamo allora capitano america dove lo metto? a sinistra per forza oppure no quindi questo lo posso spostare ah questo non lo posso spostare vabbè lo metto tutto lo metto tutto lo metto a sinistra vediamo è l'unica cosa che posso fare vediamo ok gg vai vinta gg altri due partite vinte vai se ritorna se ritorna a livello 55 io secondo me come deck questo qua ci sta per rankà ma eusebio se vi da fastidio che faccio live a quest'ora io vado via cioè stacco cioè stacco oh cazzo ok ok vabbè qua passo non c'ho niente da mettere che in realtà come strategia ci sta questa vabbè lì cristo non me ne frega niente via allora ma in realtà questa io non so se metterla ma in realtà sì perché se la metto lì che cazzo me ne frega tanto dopo gioco a turno 5 gioco questa qua a destra questa la posso spostato cazzo me pare turno 5 turno 5 gioco quella e poi dopo metto pure capitale america che posso giocato me pare quindi in realtà ah ok ok grande sbanne ah eri sorpreso ci sta ci sta 7 7 una madonna e vediamo il cazzo succede perché in realtà non è detto ah si è ritirato qui c'è proprio qua proprio proprio si è ritirato ha capito che ha perso che non non c'è più un cazzo ha perso perfetto io ho gg ahhh la cucina mi piace cazzo vai ha capito ha capito che ha perso ha apriato il cazzo ha apriato ha capito più o meno sto inizia a capire come funziona sto deck quella carta che tu peschi è fortissimo ma io mi riposo tranquillo io mi riposo io mi riposo ma io dormo fino alle 4 alle 5 del pomeriggio dopo che giochi qui una carta mette un vibragno oddio che è questa ma vabbè sti cazzo c'ho il drop da 3 in mano eh sti cazzo è mica tanto perché è buona se c'ho tipo un drop da 1 ma poi c'è maddio cane va bene va bene allora in realtà questa è buona vediamo che cazzo mi viene fuori da lì vediamo aspetta no we allora in realtà lì Che cazzo fa questo Ok Allora calma calma Questo mi da praticamente sette Questo c'è sei quindi in realtà un po' di più Però in realtà questo qua lo posso spostare dove cazzo Mi pare che lo posso spostare questo Tutto a sinistra quindi va bene Due, quattro Le carte non possono essere giocate qui esatto Per me questo c'è una quattro lì Vabbè faccio così vediamo se riusciamo a vincere Non lo so eh Dipende da quello che fa Ok Un 6-8 Quello quanto è Capitano America non mi ricordo 9 Che cazzo è come 9 Come 9 Che cazzo è Studecca Ma che cazzo è Studecca Che madonna è Troppe da 4 Ma questo non l'ho mai visto Ultron Uno nei cambi Però c'è pure questo madonna Che gli fa Vabbè Troppo forte Troppo forte È partito troppo bene È partito meglio di me Meglio di me è partito Ciao Salemme Buongiorno Buongiorno Allora Dopo ogni turno Dopo ogni turno Nel caso ci siano più carte Su questo campo Non è che la sto capitando bene Quella Boh Metto le carte Ma vediamo Ma Dio Cristo Dio Vai faccio Cucine via Mettiamo questa qua Ah per forza Per forza Ma che te pigli Se una paradisi Vabbè però In realtà non è male Come soluzione Ma fate un favore Ma in realtà Mi ha fatto un favore Perché noi turno 5 Non giochiamo niente Eh dipende Che roba C'è messo qua Che dipende questa Chi è Cioè mi ha fatto Quella su quella Non ho capito Non ho capito Sta cosa Boh vabbè Comunque qua passo Qua ho vinto Torno 6 Ci metto questa qua In teoria Snapo pure io E via Cioè in teoria Ma proprio in teoria È vinta in teoria Che qua non ci posso mettere niente Giusto Brocca questo campo In teoria è vinta In teoria Degli ulaio Eh no 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 Purtroppo non c'ho L'utente di ulaio Che cazzo è Vabbè GG Ha ci ha bagnato Lupisello questo eh Un altro che ci ha Magna Lupisello Perfetto E se ritorna Eh non c'ho le pietre Vabbè Sti cazzi Eh no Non c'ho più notizie Non vanno i suoni Come non vanno i suoni Scusa Ah cazzo C'è ragione Yandel Cazzo Chi è che mi ha fatto Le libita Grazie Yandel Comunque Quattro mesi di resab Grazie mille Un bacio enorme Grazie Eh praticamente Qua è una merda Non ci abbiamo niente Oddio Qua ci metto subito Robo qua Mischiamo due carte Qua ci metto questo Ah no Mi sono sbagliato Vabbè In realtà no Perché cambia l'effetto In realtà Però vabbè In realtà Quello lì È vinto Quel campo lì In teoria Ok Va bene Allora noi è turno 4 Ci mettiamo di posta Roba qua Buon ragazzo Buon ragazzo Buon ragazzo Cazzo Questa c'è 7 E qua pure C'è 7 Cazzo Quelli c'hanno 7 Cioè praticamente Ho perso qua Ho perso Cioè qua Cioè qua posso pareggiare E poi De qua che gli racconto De qua ci mette qualcos'altro Ci metto dentro questa Cioè qua pareggio E poi qua c'è dentro Vince lui dopo A prescindere A prescindere Vince lui Perché Ma me ritiro Me ritiro Me ritiro Me ritiro Vabbè Via Me ritiro che faccio prima Via via Fuga Fuga Via via P2Win P2Win è clamoroso Dici Ma no Ma che P2Win Ma non è P2Win Raga Ma che cazzo dite Dai su Ma chi dice P2Win Non ha capito niente Ma il figo è bello Perché ci stanno Ogni turno è diverso Ci stanno sempre Decche nuove Cose nuove Boh A me sta a piacere Che poi Non Le carte non si comprano Non le puoi comprare carte Ah grande Nico Buongiorno Re Re Simba Sì queste sono Ranked Sì Ovvio Un gioco di carte Un gioco di carte Senza ranked Un gioco di merda Ma se io ci metto Questo al centro In teoria Rimane in un lato Terzo torno Non posso mettere niente Dentro Peccato Che cazzo è Sì Che maronna è questo Costa 1 Questa costa 1 Questa costa 1 La posso togliere Questa con questo Ho però Torno 5 Non faccio niente Allora Meglio fare Questo qua Stando al centro Vince lui Costa 2 Che cazzo è Ovviamente Carte Piedose Proprio Piedose Carte Piedose Eh il problema Che qua Come cazzo faccio Metto Metto dentro Questo Per poi Spostarlo Di qua 6 6 11 Cristo Dio Allora praticamente Qua ho vinto In teoria Il problema è qua al centro Boh vediamo C'è provo dai C'è provo vediamo Ah ma c'era pure scritto lì Tu sei undici C'era tu undici in mano Niente E' qua perchè non conosco il deck Capito ragazzi Se non conosci il deck qua è difficile Però se conosci il deck Puoi fare ottimi risultati Anche se fai schifo e tutto Allora Dopo il quattro turno sposta tutte le carte Verso un campo di destra Ma un problema Ieri è venuto Grande Nico ma certo che mi ricordo di te Nico di TV Ciao Matteo come ti chiami Quanto chiedi al mese Per il tuo allifanza E' gratis Praticamente Sto deck O giochi tipo subito Il drop da uno Oppure C'è Se non c'è il drop da uno in mano Che è più o meno Il trenta per cento E' una possibilità su dodici Una su dodici Una su dodici Una su dodici Una su dodici Più o meno il trenta per cento Giù di lì No Quaranta per cento Dei trovare il Sunspot in mano Che è questo Troppo da uno Io ci metto questa lì Vabbè Quar drop lì Troppo lì non riesco a fare niente Vabbè Questo qua non riesco a fare nulla Lì sopra A meno che Quando si è sposta a destra Gli faccio qualcosa Ma Comunque la vedo dura Preferisco giocare subito questo Così almeno lì se vince Sicuro Vediamo che roba Mette dentro pure Dai mettiamo qualcosa De buono Ok Diana Jones Qua mi piace Diana Jones Qua mi piace Questa è vinta qua Ok Abbiamo vinto un lato Un turno Lì l'abbiamo vinto Io adesso passerei Oppure io rimuoverei quella Che eccoci almeno Me la levo dagli coglioni Mare non fa Poi turno dopo Faccio Tattà Queste due Farei eccoci Così almeno Turno dopo C'ho Sicuro Troppo da sei Via 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 A me che cazzo Me ne frega Te quello Vabbè Ti cazzo Ma gioca Quello che cazzo Te pare Tanto un campo L'ho vinto sicuro Il cento per cento E mo ce la giochiamo Tutto su questo Che a parte Cioè Potrei pure Toglierlo Quello lì In realtà Posso fargli pure Così Lo in culo Comunque No giochiamo safe Gioco safe Gioco safe Gioco safe Via Ma io gioco Safe Codice per il gioco No 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 Non è P2WIN Ragazzi Cioè Non è una sponsor Capito Chi pensa che è P2WIN Sbaglia Perché in realtà Tu scarichi il gioco Inizi a giocare Tu inizi proprio Dall'inizio Inizi dall'inizio Le carte Le puoi acquisire Ogni Ogni volta che tu Fai l'upgrade Della carta Tu parti da zero Qua no Tu parti da zero Qua Le carte L'unico modo Per acquisire le carte E salire Salire di livello Di livello collezione Livello collezione Praticamente ogni volta Che tu fai un upgrade Dalla carta Un upgrade Non ti dà le statistiche Migliori solamente La skin Della Della carta Come migliori La skin Della carta Sali di livello Uno Due Quattro Sei Otto Così E così via Le carte Le ottieni Così le carte Così le ottieni Le carte Così L'unico modo Per ottenere Questo qua Non è P2Win Ragazzi Questo Se giochi Tutti i giorni E Ti ho detto Che non bisogna pagare Perché mi dici Così Sarà pagamento Ah Questo non se sa Questo non se sa Non se sa Sabrina Ah Rosa Chi è Amore Ciao amore Ma chi è Chi è Chi sei Allora Questo Questo glielo tolgo Io Snappi già Io Te snappo Pure Io Sta Di Cazzo Vai Vai Voglio Rire Quando Te butto Dentro Quando Te lo butto Dentro Questo Voglio Rire Vai Vediamo Cazzo 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 Ah Si è ritirato Cucì A secco Grazie Grazie Mi ha dato 4 punti Dai Io la farò Arrivare Almeno A 60 Almeno 60 Santilli Ciao Santilli Allora Le carte In questo campo Perdono forza Dopo Ogni turno Ok Dopo i giochi La sua forza Raddoppia Listo Cazzo Quello Che Almeno Ok Vediamo un po' Qual è il terzo Le carte Senza Abilità E c'è questa Come Senza Abilità Ok Io devo andare in bagno Vabbè Questo lo lascio Giocare lì Dentro Quel turno lì Lo lascio lì Lo lascio Giocare Ok Poi gioco Il drop è da 4 Questo che fa Ok Il drop è da 4 Io gioco lì Opponente Snappi Cazzo ah ma ogni turno per te ah ma qua ogni turno non posso ritirarmi non posso ritirarmi madonna che sconfitta della madonna si oggi vengo a pescare ragazzi più tardi vado a pescare più tardi più tardi non adesso madonna santa faccio progresso e poi torno indietro cioè faccio errori banali però assurdo quando gli ansi comunque per il tuo bisnonno quando gli ansi teni oh finalmente abbiamo iniziato col drop da uno cazzo solo una carta per giocatore può essere posizionata qui e allora ci metto questa solo una solo una dice passo questo è il cazzo va bene non me ne frega un cazzo dopo gli faccio il drop da tre però quando adesso non dopo che faccio ora Gesù Cristo di sfiga vabbè vabbè allora vabbè noi torno 5 non facciamo niente torno 5 passo che noi torno dopo abbiamo questo speriamo di vincere così speriamo speriamo di vincere così speriamo dipende quello che ci mette lui lì ecco alla lo sapevo lo sapevo se non gioca niente turno 5 turno 6 ci mette quello era prevedibile porca troia si 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 vado a pescare un attimo vado in bagno che si vado a pescare Allora Vediamo Secondo me ragazzi Magari io organizziamo un bello tour Dove? A Pescara? E' una madonna Le carte non ho ancora pescate Come faccio a vederle? Cioè? Come faccio? In che senso? Come faccio? Le carte vengono scoperte a fine turno qua Ma scoperte nel senso che distrugge tutto a fine turno Allora? In teoria Distrugge tutto a fine turno in teoria Inteso come quello Vabbè Ok 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 Nituro non la posso spostare questa Hmm Quella la posso togliere Ma non penso che cambia qualcosa Questa qua viene rimossa Però in realtà 5 più 4 Vabbè io ci provo Ah si è ritirato Vabbè che sfiga però cazzo Fatemelo di che sfiga cazzo Cioè proprio quando sono vinto porca puttana Cioè quando sto a vincere Quando sto a vincere se si ritirano cazzo Marvel Snap Allora Marvel Snap è semplicissimo Veramente semplice C'hai 3 campi 3 campi c'hai Campo sinistra e campo Quello centrale e quello di destra Ogni partita i campi sono sempre diversi Ogni partita sempre diversi E quello sotto è tipo la Questa qua è tipo l'energia Quella sopra e quella sotto è l'energia Aspetta Allora Quella sotto è l'energia Vince Ti vince 2 terzi Dei campi 2 terzi Dei campi 2 terzi Ma in realtà è più facile spiegarlo Che giocarlo Cioè Cioè è più facile giocarlo Che spiegarlo Veramente una puttanata Poi questa qua sopra è l'energia Questa qui Il mana Sarebbe questo qui Oh Questo me lo prendo tutto E me lo godo pure E quella a destra invece è l'energia Allora fammi pensare Io qua passo Perché noi il turno dopo Ci abbiamo questa Da 20 Che in realtà la possiamo mettere Ah no Cazzo il turno segue Ah È vero Il turno Ancora non è tutto Eh quello deve stare attento Perché noi abbiamo questa roba qua Che è ficchia Davo se metto a piangere Eh quello Questo qua lo posiziona è qualcosa Cioè almeno qua Non mi ammazza niente E dopo voglio ridere Ok E mo Come la mettiamo Un turno l'ho vinto Ma in realtà Quando dice no C'è no Sette Sette mana Sette mana Posso mettere Nove Quattro Cinque Quattro No Cinque tre sette No Che conviene sempre questo Sempre questo Combiene Vai vediamo Che cazzo è Sì Porco Sì Vabbè come cazzo facevo a sapere che lo metteva sto stronzo Con null Ma che cazzo è con null Questo è un deck con con null Quindi Vabbè Ho scoperto una roba nuova Ho scoperto una carta nuova Cioè Carte nuove Ho scoperto Vabbè GG ci sta Forte Forte Cioè che cazzo È live È live Buongiorno Fabio Cozzolino Ti piace la banana? Quella piace a tutti Ma come fai a dire che non è un betwin? Dimmi dov'è che uno deve shoppare i soldi per diventare forte Live From the Daily Bugle Passiamo per un indattro Eh vediamo Vabbè è un po' una merda Eh questa invece te la mette nel culo Io onestamente non punterei a sinistra Punterei qua a destra Questo non è che c'è pure canul dio Dio ganderino Questo c'è anche nulla te lo dico io Altro che Ma in realtà io ci potevo mettere questa lì sopra Lo inculavo con la vasella se ci mettevo questa Adesso ci ho ripensato Se ci mettevo l'armor qua sopra A questo lo inculavo con la vasella Non ci ho ripensato Ma mi conviene ritirarmi Altrimenti che cazzo faccio qua come fai Cioè che cazzo mi vendo Non riesco a togliere niente lì E queste costano due Due sei due due Perfetto continuo Se ci mettevo armor lì sopra era fregato questo Non posso far niente Posso solo ritirarmi Ma shopping cose che puoi guadagnare gratis Esatto Cioè in realtà ci serve queste pietre qui a sinistra A blu ok per salire di livello Però in realtà Ok in realtà Con le missioni Con le missioni Con queste pietre qua ce l'hai A parte che ce ne dai 50 gratis al giorno 50 al giorno gratis ok A parte questo Però ci stanno una marea di cose Che poi prende tipo Con vabbè ovvio Ci sta pure lo shop ovviamente Però ti assicuro che tu puoi fare tutta la collezione a gratis Se tu inizi adesso certo ci vorrà Ci vorrà un annetto Però comunque sali di livello Oppure se giochi Cioè all'inizio partano tutti uguali Anzi aspetta Te dirò di più Te dirò di più Più sali di livello qui Della collezione E più trovi gente simile Con la collezione tua Credo Per esperienza mia A che ora vengo eh Non lo so Nico Non lo so Non so niente Io dopo 4 mesi Sto a 3100 Esatto Alla fine del quinto turno Tutte le carte posizionate Qui vengono spostate In un campo casuale Vai Vediamo Cioè metto questo qua Dunque Male non fa Che cazzo è Il costo delle carte Che non fanno Nel semplice parte Di questo mazzo Ridotto di uno Praticamente nulla Ok 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 Vabbè ci metto questa qua Così cambia il coso lì Poi A mo ci sto a pensare Dopo il gioco viene copiata Ah cazzo adesso la svista Vabbè Vabbè vediamo Vabbè grazie Vabbè è una maronna È una maronna E buttalo via Qua si passa Turno 6 Ci abbiamo l'use 20 Che fa male Questo qua è aumento dei 5 Sposto questo da un'altra parte Ci metto l'use 20 qua dentro Cristo Tanto questo si ritira Il mostro testa del gazz guarda Guarda un po' come si ritira Ma so sicuro 100% Che questo si ritira Si ritira Laghi non so niente Quando esce domani La carta Quella da domani Non lo so Ma vediamo Cazzo è C'è praticamente io metto l'use 20 Posso mettere l'use 20 qua Che poi viene copiato pure dall'altra parte Cioè È enorme È enorme 620 qua e 620 del là E quando cazzo me batte questo Ma se gioco a dinosauro Comunque è sempre un 620 ragazzi 620 620 Eh Vedi Cacca il cazzo Ma tu pensa Niente Via A mo voglio vincere tutta la fila Però il problema è che questi testa di cazzi Non mi mettono Non me snappano Porca troia Eh furbi Sono furbi Non snappano Le carte qui non possono essere distrutte Tu pensa la madonna 4 carte 12 carte nel deck 4 carte Non riesco a pescare il drop da 1 Mai Mai Eh ovviamente Eh io non pesco Non pesco Cioè qua ho pescato male Cazzo io la cazzo qua Eh però in realtà quello lo posso doi Eccola questa La dovevo pescare prima però No adesso Cazzo Prima la dovevo giocare No adesso Questa fa male Più o meno Lì dice la prima carta Che sposterò là Va va Fanculo Questa la sposto qua E qua che Che racconto lì La prima carta Che verrà giocata qui Verrà distrutta Però L'armor funziona Però dice la prima Non la seconda La prima Quindi in realtà Se io faccio C'è 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 In realtà funziona Cioè il contrario Prima gioco questa Poi gioco questa In realtà dovrebbe funzionare Qui c'è Porco E cazzo Ma questo c'è sempre le soluzioni Porca troia C'è sta gente C'è sempre le soluzioni Cristo Dio Cioè io non riesco Non riesco a finire C'è sempre le soluzioni Porca troia A parte il fatto che non riesco A trovare Mai Il drop 1 0 Il sunspot in mano Mai 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 E circa Il 50% Non lo trovo Vabbè Ci sta Più 3 forze Le carte Senza abilità Posizionate qua Ma noi non abbiamo Carte senza abilità A parte questa Quindi alla fine Dopo che giochi Scambiala con una carta Dentro il tuo mazzo Vediamo Vediamo che cazzo Ve ne fa Porca Eva Non ci credo Ci metto quello lì Vediamo che cazzo Succede Marca Una parola Ci proviamo Lo stesso Ma che c'abbiamo In del deck C'abbiamo un cazzo Fermate Ci sta un cazzo Ci conviene Mette tipo Ci conviene Mette Sta roba qui Purco Diavolo Dio Cristo Dipende dove cazzo L'ha sposta Questo Porca troia È tutta L'ingognita Cioè Secondo me L'ha sposta qua Secondo me Questo L'ha sposta qua O qua Ho ragione Allora Se io la metto qua Al centro È vinta Non lo so Forse ecco c'è Vision a sinistra E una a destra Secondo me è meglio D'eccoci Non si può fa Secondo me Ma che vada Si perde dai Cazzo ho messo Dai Dai GG 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 Eh questo Voleva Piliarmelo in culo Voleva Mettermelo Dentro il culo Voleva Mettermelo Questo Voleva Mettermelo Dentro il culo Invece No Io l'ho messo Io dentro il culo A cazzo Ma che cazzo è Sta maronna Entrambi con carte casuali È la maronna De Dio E che è Gesù Dio Cristo Cosa è qua Quando viene spostato In un campo Allora Quando viene spostato In un campo Più due forze Vabbè Io snappo Ogni turno In cui l'avversario Non gioca Una carta Qui Eh ma questo Mi sta a sniper Come fa a sapere Allora Devo ragionare Porca bestia Ma secondo me Il mazzo tutto qua Il mazzo tutto Metto questa Cioè almeno Mi da pure Un po' Da roba in più No Ho snappato Già Perfetto Allora Fammi pensare Perfetto Continuo Ma io ci posso Mettere questa qua Metto Jubilee A destra Così almeno Questa qua Mi da Tipo Aggiungi una Carta Dentro L'umazzo Vediamo un po' Quello che Gioca Un po' Ecco Una merda Va bene Una merda Però Comunque anche la merda A me piace Quindi è a posto A noi ci piace La merda Quindi è a posto Così Allora qua Ci metto Questo Che non può essere Distrutto E qua ci siamo Ah in realtà Dovevo mettere Troppe Ciò so pensare A questa Dovevo mettere Eh Debarea La maronna Ma questa Che cazzo Ecco Gli racconto Questa Che cazzo Gli racconto Ma quella Madonna O metto Questo E basta Secondo me Devo mettere Questo E basta Vediamo Vediamo che succede Norca troia Sei Ce la facciamo C In teoria c In teoria c Perché questo Pia no Cinque otto Ma vieni Dio Cristo Dio Ma magname Lucazzo Magname Vai Yo GG 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 Vai vai Vieni Vieni È tardi 9 e mezzo Una carta Una carta Una carta lì Io lì non ci gioco Un cazzo Oh finalmente L'abbiamo trovata Alleluia Alleluia Mi ho trovata Ok per madonna È Mazzo agro Uh Mazzo agro Mi piace Beh non mi piace Tanto perché Questa qua Mori però Angela Cosa ti pensa Che storia Vai vai Gioga altre carte Da uno Vai testa Di cazzo Vai Ok Ok Muore pure il coso mio Però in realtà Sti gazzi Vai vai In modo è mazzo tutto Ciao campo Qua non ci puoi giocare Un cazzo Qua Mo' ci metto Questo qui Un po' S'ho spostato Un cazzo Mi pare Vai vai E ci metto Questo Non so se Metterlo E non so dove Metterlo In realtà Boh È uguale Cioè va un po' Fortuna Secondo me Ma dove hai GG Gli hai fatto un favore Snappa Gli hai fatto Un favore Leva tutto Che è giocata De merda Perché Hai vinto Lui ha troppi scogliati Nei campi Perché scusa Guarda che in realtà Lui li poteva pompare Lui li pompava Quindi in realtà Secondo me Non è stata una giocata De merda Da nita Secondo me Dai dimmi che C'ho troppe da uno Niente Ti riempi per primo Ecco Ecco Te pare Oh Grazie Salute Ma che cazzo C'ha questo Che vince Allora Eccoci sicuro Ma vediamo Provo a far cucire Vediamo un po' Che succede Ah però Ho vinto lo stesso GG Man GG Vai vai Yo 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 Vai Altre quattro Vai Yo questo vince Vai Dai Ciao cerampa Come stai Dai dammi un drop E da uno Finalmente Ho trovato Dopo questo turno Posiziona qui Una mano Di ogni carta Del giocatore Cazzo Non è Ecco Io so Sicuro Al cento Per cento Che mi prende Il sunspot So sicuro Al cento Per cento C'è che mi prende Questo qua Lucky monger Guarda Se mi prende Questo Porca puttana Ho vinto il game Guarda un po' Come mi viene Dentro questa Ma so sicuro Al cento per cento Ah no Ok No in realtà È una merda Puttana Della madonna Che sfiga Che sfiga Ma poteva andare dentro questa No 33% Cazzo Conviene il pass Stagionale Boldo Secondo me Non lo so Non lo so Non lo so Io l'ho comprato Ma non lo so Se conviene o meno Cioè non so che dite In realtà Questa costa uno Là Eh forse sorrendo Sai Via Mi ritiro Mi ritiro Meglio ritirami E vaffanculo Via Meglio Meglio ritirami Già Ho capito Com'è l'andazzo Meglio ritirarsi Comunque Se fai una partita Fatta bene Chi è qui Ancora questo Schitto E basta Ma questo qua È un italiano Porca Puttana Se sei italiano Allora Sappi che Mi devi Magnare Un piscellone Mi devi Magnare Cazzo Servingo Dio Porco Quando la carta viene spostata In questo campo Distruggila Una maronna Effetto Continuo Una cagata Pazzesca Praticamente Vabbè Metto questa Ma non ci sta nemmeno Ho un effetto Continuo Tutti Rimuove In questo campo Vabbè Vabbè Ah pure la cosa mia Però mi rimuove E volevo Allora Vabbè Vediamo Meritiro No Secondo me No Con la maronna No Era meglio Ritirasse Vabbè La giocata Era giusta Secondo me Però Era meglio Ritirasse Infatti Come l'ho detto Ma dipende In realtà Allora Sto in after Da ieri Sì 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 Sto in after Eh non riesco a dormire Ragazzi Non riesco a dormire Zero proprio Eh ma Matrix qua Su sto gioco È forte 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 Allora Vediamo Certo Un gioco De carte Non è che se possono In gioco tutte le partite Ovviamente Ui Iron Man Gli ha scartato Gli ha scartato Iron Man Buono cazzo Meglio Dove Dio Cristo Lo metto Questo Secondo me È al centro Ma questo perché Non sta giocare niente Scusate Avengers Assemble bravisco Ah questo è pure sicuro De quello che fa O me ritiro Allora questo secondo me Lo posso spostare a destra e sinistra Non è male come roba Però dopo non c'ho troppe da sedi No io passo A caralà come non detto Un 50% Un 50% In teoria No ho perso e basta Ho perso e basta Perché Se vengo qua poi perdo da qua Quindi ho perso Mi ritiro Mi ritiro Eh non riesco a essere lucido Allora Non riesco Troppi pensieri di troppo Cosimo ma che Ma che troppi pensieri Non riesco a dormire per altri motivi Ok allora Le carte di costo 6 Hanno un costo ridotto di 1 E questo mi fa piacere E quello mi fa piacere Però non lì Dappertutto Quindi io posso mettere questo qui Tranquillamente Ok Io qua posso passare Almeno io aggiungiamo i due Quello lì Però in realtà questo Nella mano Però nella mano Non c'è un cazzo L'oponente Che cazzo me ne frega Tutto questo qua Almeno qua proteggo tutto Dopo il terzo turno Quindi noi il turno dopo Ci mettiamo Questo Qua ci mettiamo Che cazzo ci mette Sicuramente ci mette Troppe da 1 Ah Scarlet Ok vediamo che cazzo Io gli dà Scarlet Le carte Non possono essere distrutte Ok Ci ho messo Scarlet Comunque O metto questo O metto questo Io metterei questo Questo qua C'è una carta Grandomica Che potrebbe essere O questo O questo O uno di questi qua Che comunque A me sta bene Questa si roba Una madonna Se mi sta bene Quello cazzo Una madonna Una madonna Una madonna Ha messo dentro Non lo so Non lo so Vediamo un po' Se mi ha risposto Posso aspettare Che mi risponde Una persona Ah, io ne so, vedete, quattro, eh Dopo me, quando una ragazza Mi fa girare i coglioni Cioè, se a me una ragazza mi fa girare il cazzo Io non so voi, ragazzi, io Porca troia, ah, cucina Grazie, avevo perso Grazie, ecco, vinta, easy Io Grazie Stavo a dire, quando una mi fa girare il cazzo Dopo io gliene dico quattro, eh, dei parolette Dopo io Gli lo dico sul muso Gli lo dico sul muso, glielo dico Dopo divento cattivo Ma secondo me è meglio se la metto Tipo qua, al centro Speriamo che non è quello lì Che dà un mano in più Durante il sesto turno, dice Che cazzo è, effetto continuo Minchia Potente Metto a sinistra, vediamo che succede Vabbè, qua lo distruggo questo Distruggo il drop da 9 Vediamo che cazzo combina Bello Cioè, io sto deck non l'ho mai visto Ma c'è Durante il sesto turno non possono essere giocate qui Interessante Io passerei Sai che vi dico io passo qua Io passo e ci metto questo a sinistra Vediamo che cazzo succede Vediamo che cazzo succede Rainbow a sinistra Puoi giocare a Rainbow Non ho capito Metti storm mid E poi Enchartress Storm mid dici? Enchartress Effetto continuo Ah, è vero C'hai ragione Non ce l'ho pensato Non ce l'ho pensato Che coglione C'hai ragione Vabbè, oh, quando uno c'ha ragione C'ha ragione Cazzo C'hai ragione Questo deck l'ho preso su un sito Su un sito Ma comunque non è male come deck Cioè, è stato giocato una marea di volte Dice Ma ce n'ho altri dei deck Dai, proviamone altri Questo qua comunque era da provare E ci sta questo qua aggro Che non so che roba è Non so come funziona Questo è un deck aggro Molto aggressivo Ma che? Non l'ho selezionato? A me sono sbagliato Che cazzo del deck è? Ma a me sono sbagliato Grande Dart Arena Grandissimo Ho metto questa lì Ma vai Una bella pioggia dei peccati Una bella pioggia dei peccati? Mi sa che è una bella pioggia dei peccati in arrivo Tutti per te Mi sa Una bella pioggia dei peccati Ripeto Una bella pioggia dei peccati in arrivo Mi sa Un curo Una bella pioggia Ma veramente una bella pioggia dei peccati Mi sa Un curo Un curo Un curo Un curo Un curo Proviamo a vedere Che cazzo mi mette fuori lì Eeeh Vai io porco Beh un bello mazzo agro Quello dell'opponent Ho fatto una bella sorpresa Ho fatto proprio una bella Ma io l'avevo selezionato L'avevo selezionato il mazzo Ma era l'avevo selezionato eh Agro Oh Vabbè Più un'energia durante sto turno Oh nucazzo Tutte le carte dentro il mazzo mio Vai Grazie Grazie Battume Battume Sherlock Per tre mesi di resabba Grazie mille Grazie Buongiorno Buongiorno Annamaronna Dopo che giochi in un'altra carta Ok Cazzo è Ah Cucì Che maronna è Buongiorno 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 Boh, vediamo un po' che roba succede qua Ok, lì c'ha una cosa in più Vediamo un po' Per là la rimuovo Vediamo un po' Eh, che mossa Però Eh, oh, in realtà In realtà non è male come deck, eh Na, madonna B-shop a destra Si scopre a fine partita B-shop a destra Vabbè, comunque va bene così, ragazzi Hai sbagliato a giocare Angela Ovvero Vabbè, ma tanto è la cosa Cioè, alla fine è una cosa nuova Vediamo un po' il primo campo Più tre, forza Vediamo un po' se gioca una carta, questo Non gioca niente Peccato Vediamo un po' di Vediamo un po' di eh boll che cazzo è a questo snap a cuci io snap pure io ma secondo me quello gioca qualcosa qua sicuro vaffanculo oh bishop dopo che giochi una carta ma in realtà non è micro eh cheat allora prima gioco questo e poi gioco questo in teoria qui c'è ci dovremmo essere in teoria eh si urti il cazzo che te sei in c***o che si è fatto ho perso ho perso vabbè ma in realtà vediamo tu dici che era tardi on going la scopetta però dovevo farlo prima vediamo hanno più 5 forze qua ok secondo me ci gioca una carta subito questo si cazzo l'unico non 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 PURKER! Secondo me lì ci mette qualcosa Qua ci mette qualcosa Allora il campo centrale secondo me l'ha vinto lui Andai a vedere sera sulle trasmissioni recenti Bellissimo basta che clicchi sul video Allora esci con una ragazza No esco con ninja e strong stasera No no io le donne ragazzi Meglio lasciare le perdite Meglio così E un po' che fa Questo che fa basta e basta Non gioca niente Ok 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 qua faccio qui c'è passo Squire le passo Ma scusami E questo Ha la scoperta Aggiungi la carta di forza 1 negli altri campi Ah ok 1 Eccolo qua l'ha aggiunto Ok Vabbè qua Questo qua praticamente In là ho vinto Porco dio Porco dio Ha 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 A coglione A coglione Guarda questo Ah voleva vince eh Voleva vince sto stronzo Ci ha provato In realtà ci ha provato Nel campo non puoi aggiungere carte fino a turno 5 Fa schifo sto gioco Meglio Airstone Beh oddio meglio Airstone In realtà Airstone perché è più dinamico Ci sta No più dinamico ci sta più effetti casuali Qua invece è proprio un gioco de carte De casualità qua ci sta ben poco Forse per quello dice che è un po' così Secondo me qua mette qualcosa al centro Sicuro Come nessun bersaglio Oh Cazzo No no non è una 24 ore Mi gioco più rapido questo C'è più rapido però In realtà può decidere se arrendere più o meno Scambio di un elato che significa questo? Che significa? Che le mie vanno da là? Vado a fermare Allora prima questa E' scena Vabbè Non è che mi dispiace Come roba Vediamo un po' Vabbè Vabbè Contendo lui Contendo lui Contendo i tutti Il problema è che adesso non gioco più Non gioco più carte Quello è il problema Dio Cristoforo Dio Cristoforo Ah però posso giocare questo qua Però in realtà Sai che non è che mi conviene Cazzo non lo sapevo Ehm Mi conviene passare Anzi mi conviene ritirarmi Mi sa Tanto è arrivato a sto punto Non lo so Sono deciso No 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 Digi ma ne Digi Per fortuna che è scarso l'oponent Per fortuna che è scarso Per fortuna Perché altrimenti mi faceva un bucio del culo Che non veniva più Mi faceva Vabbè io Per fortuna che non ha snappato Che se ha snappato poi era Era cazzo Sono riuscito comunque a Aggiungere scogliato ad ogni campo Beh grazie Ok faccio questo Vediamo Possiede Ah meno forza Meno forza Sto inculato allora Allora sto unguagliato qua Sto unguagliato Madonna Dio Che schifo Bishop a destra Dite Eh ma poi che risolvo Niente È qua io passo Non lo so Dio Cristoforo Dio Cristoforo Quello è fortissimo Eh qua non gli posso Fa niente Qua non ci posso Fa niente Qua sono stato un po' sfortunato Qua in teoria Ci è stata la concede Qua dovrei Dovrei quittà Qua la partita Cazzo Cioè non posso Fa niente Quello là cazzo C'ha un pisellone De quello enorme Cioè A meno che non succede qualcosa Ma che cazzo vuoi succede Qua mi ritiro e basta Dai mi ritiro Cioè Cazzo vuoi fare Dov'è no Meglio ritirarsi E non perde dai No ma questa Ma a parte che non si possono Vincere tutti Le partite su questo gioco Però è meglio Ritirarsi Così perdi uno Perché se vinci Vinci due Ma se perdi Perdi uno Poi dopo Se snappi Puoi fare tante cose Però Sarebbe meglio Ritirarsi Meglio ritirarsi Che meglio Allora Nel quarto turno Si trasforma Nel quarto turno In un campo nuovo Vabbè Io non ho dubbio Cioè metto la roba dentro Gesù Dio Oh mio Dio Le mie carte Possono essere distrutte Gesù Mi sa che questo Ce l'ha Bishop 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 Infatti Avevo detto io Secondo me Più uno Forza Tutte le carte In tuo possesso Secondo me Devo giocare così Tipo Ma dai Ma quando vuoto Faccio Se te si more le carte Porca Troia Tutto le carte Tutto le carte Tutto le carte Sì, però va a snarpa? No, non uso Non uso, non uso E' un po' E' una madonna che culo ci ha piato questo Ma questo ci ha piato un culo della madonna proprio GG Questo ci ha piato un culo della madonna, ci ha piato Una maronna, santa, che cazzo Yo Dai, siamo tornati Siamo tornati a livello 55 Non riesco a scollarmi da lì A livello 55, rimango lì, rimango Dai, voglio arrivare al 60, cazzo Ma già sono le 10 Dopo il 4 turno Il giocatore svantaggio Boh, io metto questo accendo E' un po' che cazzo succede Dopo che giochi una carta qui viene A mia mano una sendinella E' un po' E' un po' che roba c'è stata il terzo qua E' un po' che roba c'è stata il terzo qua Ok L'alzare al centro Ah in teoria Ma in teoria se lui non c'ha Remu Cioè ho vinto io In teoria Ma io non giocarte che cazzo giochi questa Non giocarte in mano praticamente Vediamo che cazzo combina vai No non cambio gioco Gioco a Marvel Snap Se non te sta bene te puoi andare pure a fanculo Ma i coglioni Come sa che La partita già ha preso una bella piaga Qua ha preso una bella piaga la partita Eh si è ritirato Si cazzo Vittoria Ma stasera mi riposo Stasera mi riposo Mi riposo Dai sto deck mi piace Molto aggressivo Bello aggro Bello facile Non è difficile Ma no no Hs non c'è niente a che vedere con hs Più che altro pure le canzoni Che fanno un po' cagare qua Dopo il quarto turno Non posso giocare a carte qua Vai vediamo se aggiunge qualcosa lì dentro Oddio qua subito Si ma sembra sta roba Ma io mi sono rotto il cazzo Ma sembra sta roba Mi viene in mano Porca troia E su Non so se giocava questa qui Ok dai vediamo che cazzo succede Perché in realtà lì non ci posso giocare a carte Fino Vediamo Mi dà una carta gratis Uh la madonna E chiama la carta questa Questa è una cartone Questa è una cartone Altro che E però peccato perché è l'ultimo turno E che faccio Che me Che me mendo qua Qua non posso fare niente Qua a me conviene sorrendarmi Una cartona del cazzo Perché in realtà non posso giocarla Andiamo un po' Tutto dipende Che ci mette qua Vabbè Un nabbo Vabbè un nabbo del cazzo Ma poteva vincere Poteva vincere Ma che cazzo fa Metteva questa là Vinceva Ma che madonna fa Vabbè Eh me l'ha regalata Me l'ha regalata Vabbè Allora Questo contro è rica Vai rica Una copia Una copia Allora turno uno Io non gioco niente qua Io passo Turno uno passo Turno due questo Poi Ma io posso metterci Tutti i bishop qua Ma turno tre Tatatata Bishop 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 Però non c'è Sta tempo Il peccato per quello Ok la gente La gente lì è brutta Cosa Vediamo al centro Che vabbè Tutte le forze Come un maggiore Se no tengo il campo Boh Metto qui Ma secondo me Qua si vince Ok 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 semmo nemmeno sottotto al cazzo mmm non mi se faccio giro bene si dopo ho baffo dopo l'uomo ah questa mi piace alla squirre lo metto da un'altra parte 5 forza lì però aspetta metto prima questo metto questo faccio così 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 secondo me ci sta dire semmo Torna Mo che cazzo gli racconti qua Mo io ride Allora secondo me qua Se noi gli facciamo tipo Questo che è Iron Man La tua forza totale in questo campo è raddoppiata Vabbè ma a me sti cazzi della forza totale è raddoppiata Se io faccio una roba del genere Eccoci qua se vince A 100% in teoria Gioco tutto Se l'avversario c'è Killmonger E che cazzo è Killmonger Non lo so Cos'è Killmonger Che fa Killmonger Se magna tutto Perché non Blue Marvel Perché così almeno quando metto le carte In teoria si pompa Bishop In teoria Se bomba Bishop E poi Se bomba pure San Spot questo qua In teoria Ah quello lì che E beh questo qua già Costa 3 questi eh Costa 3 Non costa 1 Cioè questo costa 1 Però questo costa 3 Qua ce ne stanno 2 Qua ce ne stanno 2 Vediamo E ora C'è anche il Monger Vediamo E' anche i scherzi Ahahahahahah E qua è tanta roba Dio No 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 Sì ma Sì ma Cioè, che cazzo devo fare? Se poteva fare meglio, secondo me Se poteva fare meglio, però Cioè, più di così, che cazzo gli racconto è questo? Allora Questo campo verrà scoperto Meno due forze Ok Questo però c'è Fondino Anzi, aspetta Ma che cazzo è? Wave Il costo delle carte Entrambi i giocatori diventerà Quattro nel prossimo turno Vabbè, io faccio il cuci Vediamo un po' che succede Tanto questo è effetto continuo, no? Effetto continuo Solo nel prossimo turno, però Oddio, un magneto che è? Magneto Ma cazzo è il magneto? Non è Non è Magneto porca troia Se è forte il magneto Ho perso, mi conviene concedere Mi fa' pena No ma che pena Porca troia stavo per vincere Ci mancava poco per vincere Cazzo Ma comunque ho perso colpi No no basta basta Non gliela faccio Devo studiarmi bene i deck ragazzi Devo studiarmi bene i deck Le carte Comunque il gioco ci sta È figo Però devo studiarmi bene le cose Allora tu che vieni qua Scrivi sta roba Ma quant'anni c'hai Fra bot Cioè guarda qua Guarda qua quello che scrivi Matteo ho due anni Sono Torno a pulire i piatti Allora Allora Razzismo Non c'è L'utente Il 15.05.2023 Alle ore 10.25 circa Ha scritto I seguenti Messaggi Nella Mia Chat Salve Sono Matteo Chies La Test구나 L'onore La La E intentar E Di Demjsk E Probably My Meu geworden Ah prima Cioè guarda Prima Cioè prima mi scrive le cose E poi mi fa Nooo Norcazzo Norcazzo Non devi proprio esiste tu Sulla faccia proprio De Twitch Non devi proprio staccere Cioè prima Prima fa le robe E poi dici De no Ma tu pensa Che deficiente Ciao Ciao surmacchio Come stai Bello mio Allora Bellissimi Io So stanchissimo Me ne vado a dormire Sul letto Noi ci vediamo Direttamente martedì Come ho già detto E No ma che so fidanzato Che so singolo Come Come non mai So single Vabbè Ragazzi Ciao a tutti E ci vediamo Martedì Ciao belli